Oggi il Parma scende in campo con una maglia blu in occasione della giornata della consapevolezza dell'autismo, patologia che colpisce un bambino su 68. Lo sport si veste di blu, è un'iniziativa dell'Aus, dell'assessorato allo sport e dell'assessorato ai servizi sociali del Comune di Parma, cui il Parma Calcio aderisce, per contrastare il pregiudizio, il fiuto della diversità e la discriminazione, favorire il confronto e la conoscenza della patologia dell'autismo.